Tadà! E' quello che ho messo sotto la settimana scorsa. Potevamo fare una cosa. Invitare i nostri vicini per condividere questa... esperienza culinaria. Non dire stupidaggio. Io mi ucciderò veramente, così mi avrete tutti sulla coscienza! Falla finita, tu non avresti mai il coraggio di ucciderti. Potrei ucciderti. Contarsi che quella famiglia di svitati abbia nascosto qui licori e mallop. I pazzi hanno la mania di seppellire le cose. Peter ha voluto scavare per vedere che cosa ci fosse sotto. Cosa avete trovato? Ci hanno fatto visita ai nostri vicini. Abbiamo investito un fattuto bambino! Vogliono Alex. Che significa? Vogliono Alex. Non preoccuparti. Ora li sistemo io. Io mi prenderò il vostro bambino. Aspetta e vedrai. Lasciateli andare! Giulio! È il tuo fratello! Questa è casa mia! Hai capito? Dime! Datemi il mio bambino! Lasciateli già andare! Giulio! Giulio! È diventato! Giulio! 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 Giulio!